Ad un mese dall'approvazione della Legge Nazionale sull'Agricoltura, presso la 79esima Fiera del Levante, Agricoltura Sociale Puglia dedica un'intera giornata al tema, attraverso il Forum alla Regione Puglia e l'Agricoltura Sociale. Presso il padiglione 18, due stand informativi di promozione del Forum e dei prodotti di Agricoltura Sociale, dove il nuovo assessore a welfare della Regione Puglia, Salvatore Negro, ha accolto il portavoce nazionale del Forum, Antonio Carbone. Qui è stata illustrata la Legge Nazionale sull'Agricoltura. Certamente, interagiremo perché accanto a uno sviluppo classico dell'agricoltura bisogna mettere in campo un modello di sviluppo diverso, un modello di sviluppo nuovo che pensi e provveda all'inclusione sociale, alla residenzialità, alle fasce più deboli della nostra popolazione. Possiamo farlo e insieme penso di riuscire a farlo. Il Forum, nato quest'anno, raggruppa già 35 realtà che si occupano di agricoltura sociale in Puglia. La Regione così potrà inserire nella nuova programmazione dei piani di sviluppo rurale delle specifiche misure per ampliare la multifunzionalità delle imprese agricole e sociali, nella direzione di un nuovo modello di agricoltura. Oggi, in realtà, noi prendiamo atto dell'approvazione definitiva della legge nazionale che chiaramente stabilisce dei termini, dei tempi e anche delle attività a carico delle regioni. Noi, come agricoltura, probabilmente una riflessione su questi temi li abbiamo già iniziato, avendo lavorato molto con il circuito delle masserie didattiche, quindi con il PSR, che già nella programmazione 2007-2013 ha attivato una serie di misure relative proprio ai servizi di prossimità. Quindi, diciamo che sono riflessioni alle quali noi siamo in qualche modo abituati.